Via libera ai vaccini ai turisti in Abruzzo. Chi trascorrerà un periodo di vacanza di almeno 15 giorni nei mesi estivi sul territorio regionale potrà richiedere la somministrazione della seconda dose. Lo rende noto l'assessorato regionale alla salute specificando che le vaccinazioni dei turisti saranno organizzate direttamente dalle ASL provinciali attraverso proprie procedure e non verranno dunque gestite dalla piattaforma Poste. Chi deciderà di aderire all'iniziativa dovrà semplicemente sottoscrivere un'autocertificazione in cui dichiarerà il periodo di permanenza con il relativo domicilio. Ulteriori chiarimenti dal dottor Rossano Di Luzio, coordinatore campagna vaccinale della ASL di Pescara. Sì, coloro che si trovano in Abruzzo a fare le proprie vacanze per più di 15 giorni possono rivolgersi ai numeri di telefono o ai indirizzi e mail messi a disposizione da tutte le ASL. L'ASL di Pescara ha messo a disposizione questo indirizzo e mail vaccinazionecovid.turisti chiocciolaausl.pe.it oppure il numero di telefono 331 26 94 574. Il numero di telefono è attivo dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 13. Naturalmente anche le altre ASL immagino si siano attrezzate. Sì, la parte iniziale della mail, quindi vaccinazionecovid.turisti chiocciola è uguale per tutte le ASL, il suffisso successivo dipende da ASL a ASL. Come prenotarsi concretamente? Basta mandare un'email dicendo che sono turisti e che stanno per più di 15 giorni qui in Abruzzo e noi indicheremo il giorno, il punto vaccinale più vicino alla loro residenza turistica e li manderemo lì a farsi il vaccino. Parliamo sempre della seconda dose. Da quando inizieranno le vaccinazioni? Le vaccinazioni per i turisti iniziano da oggi, dal 1 luglio. Naturalmente appena avremo le prenotazioni, nei giorni immediatamente successivi alla prenotazione verranno invitati a vaccinarsi. Naturalmente la minima età è 12 anni, da 12 a 18 anni il ragazzo che deve vaccinarsi deve comunque presentarsi insieme ai genitori perché hanno la necessità del consenso, il consenso deve essere sottoscritto sia dal ragazzo che dal genitore o dai genitori e poi da 12 anni in sopra. Dunque ribadiamolo, facciamo un appello ancora una volta ai turisti che vengono in Abruzzo sia al mare che in montagna possono unire l'utile al direttevole e ricevere qui la seconda dose. Sì, sì, è un annuncio che faccio ben volentieri ma oltre ai turisti io rivolgo l'annuncio ai pescaresi, agli abruzzesi a vaccinarsi perché abbiamo ancora una fascia di persone quindi stimata intorno al 20-25% che ancora non ha deciso se vaccinarsi. Io invito veramente loro a vaccinarsi. Qual è la fascia più refrattaria? Ma guardi, è diciamo equamente distribuita, forse tra i 60 e i 70 anni abbiamo qualche numero in più.